Bene, salve a tutti ragazzi, passerà pure questo periodo di merda, non potrà certamente continuare insomma, qui sono uscito giusto un po', ho sbrigato un po' di servizi vari e poi ne ho approfittato di sedermi qui nel baby park, praticamente non c'è nessuno, c'è proprio da solo, non c'è anima via, abbiamo anche l'ospedale qui davanti, ecco qua, per niente in pratica. Ti è sarto con qui, niente, siamo qui, ci rilassiamo un po', siamo i sopravvissuti, ecco qua, i sopravvissuti, siamo i sopravvissuti, va bene, ok, buona giornata a tutti, ciao, 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 ciao.